Allora, e rieccomi, dunque, ho installato Telegram e tante altre app, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, allora, scusate se mi direte un po' con questo specchietto della Babyliss, ma non so dove altro posizionarmi, allora aspettate un attimo, se riesco a spostarlo di qua, un attimo solo, allora, rieccomi, l'ho messo in una maniera un po' così, ma vabbè, speriamo bene, comunque, non mi vedete in faccia qui, di tanto, proverò a mettermi così, comunque, allora, aspettate che metto questo qui, allora, sono state tutto il giorno in giro, mi vedete sempre in camera, ma i miei vlog, d'altronde, non li faccio sempre fuori, oggi, però fuori, nel senso fuori della mia camera, ma li faccio anche in, anche in esterno, per dentro la mia camera, comunque, nulla, nuovo video vlog, anche oggi, video barra checchiericcio, come potete chiamare voi, e alla fin fine sono riuscita a fare questo benedetto video, e allora, ho un nuovo telefono, con 128 GB, con cui sto registrando, e uno Xiaomi, Xiaomi Mi 11 Lite, da 5 GB, sì, sono felicissima, direi, quindi, yeah, e vai, non so quanto mi posso durare questo la batteria, quindi mi devo far presto, ma è nuovo, quindi la batteria l'ho caricata, quindi non dovrebbe durarmi un nulla, perché la batteria è bella, buona, anzi, duracchia, anche fino a sera, ho fatto anche il test, credo, non ricordo, ma pare di sì, scusate se ci sono un po' confusa parlando, ma capirete bene che sono tornata stanca da un giretto, a piedi, e non connetto più, quindi vabbè, no comment, e tra poco, dopo questo video, lo carico e lo metto direttamente su YouTube, non lo condiviso da nessuna parte, perché tanto, da nessuna parte, perché tanto non c'ho voglia di condividerlo da nessuna parte, lo metto su YouTube, chi non vuole vederlo, vede, chi no, ciao ciao, tanti saluti, e quindi niente, io adesso tra poco ascolto un po' di musica, ho già guardato alcuni di vostri video, e niente, tra l'altro noto, che si sta venendo perfettamente benissimo, quindi nulla, a posto, allora, io adesso vado e ci vediamo un altro momento, ovvero stasera o domani, a dopo, anzi, a stasera se riesco, ciao!